Ciao a tutti! Allora, stasera facciamo le mele cotte dell'azienda agricola Falerni e auguro un buon Halloween a tutti. Come ne intendo io la festa di Halloween? Allora, la festa di Halloween tanti la criticano perché dicono che è contro la religione cristiana. Io penso che ognuno di noi sia libera di credere a quello che vuole perché la libertà è la nostra massima espressione, ma io personalmente intendo la festa di Halloween un momento per condividere una festa gioiosa in famiglia, per trascorrere del tempo con i bimbi, che è una cosa bellissima, e ricordare insieme i nostri defunti, i nostri cari, tutti insieme, perché li portiamo sempre nel nostro cuore tutti i giorni, anche perché non è che si aspetta Halloween per fare qualcosa di malvagio, perché se vogliamo fare cose malvagie, allora tutti i giorni sono ottimi per farlo. Ecco, dobbiamo vedere tutte le cose in modo positivo, in modo buono.